Salvezza sofferta e goduriosa usa questi due aggettivi, Giovanni Mussa, mista della Pergolettese, per raccontare l'impresa dei gialloblu. Un successo finale in casa Gianni Arminio legato ad uno sprint nel secondo tempo. Chiaramente i risultati ormai sono in tempo reale, quindi eravamo consapevoli del fatto che il Novara fosse avanti 2-0. Diciamo che il primo tempo è stato giocato in modo intelligente, cioè forzando ma non scoprendosi più del dovuto, perché se poi avessi subito il gol dell'1-0 avversario diventava veramente un'impresa titanica. Invece mantenere il risultato sul pari o cercando chiaramente di bloccarlo perché abbiamo fatto pressione per tutta la partita e abbiamo poi accelerato nel secondo tempo, forti di una grandissima condizione fisica e atletica. Abbiamo pressato tantissimo sempre nei secondi tempi e anche qua abbiamo alzato la capacità proprio di essere offensivi grazie a una buonissima condizione atletica. 45 punti, una quota alta, ma ormai in Cil sta diventando abitudine. Le quattro sconfitte che abbiamo fatto abbiamo perso con le prime due, quindi Padua e Mantua, abbiamo perso poi con Legnago che veniva da 25.000 risultati utili consecutivi, perdiamo con l'Alessandria, facciamo tre pareggi negli scontri diretti e vinciamo cinque partite. Quindi ci sta, diciamo, prima o poi una sconfitta, così poteva succedere, è successo con l'Alessandria. Un inno ai grandi vecchi ma anche ai giovani emersi in questa seconda parte di stagione. Giauari che prima non aveva giocato tantissimo, per me è un giocatore non fondamentale di più, ha un grandissimo futuro davanti perché come hai detto tu è un centrocampista moderno, è un tuttocampista, quindi recupera palla, si inserisce, calcia, calcia bene da fuori, calcia bene al volo. Non abbiamo parlato di Tonoli che è un difensore di altra categoria, nel senso che con tutto il rispetto per tutti gli altri, se fosse anche in Serie B non ci sarebbe niente da dire perché è un giocatore che abbina qualità, quantità, fisico. Altri giocatori di Gui, Gui è un giocatore anche lui con un motore da categoria superiore, ci ha messo un po' a capire quanto fosse forte, però è un giocatore che fa otto gol e sei assist, però è un giocatore estremamente determinante. E in futuro Giovanni Mussa resterà alla Pergolettese? Per prima cosa e per correttezza e per tutto, per come sono stato, per come sono stato trattato, soprattutto benissimo, parlo assolutamente col Pergolettese, ma non c'è ancora stata occasione, stiamo ancora smaltendo le scorie dei festeggiamenti che proseguiranno anche tutta la settimana, diciamolo, perché non l'abbiamo chiaramente finito, perché è stato un anno dove abbiamo sofferto tantissimo, i ragazzi addirittura prima perché io se ne arrivato dopo ho preso solo l'ultima parte del bicchiere.